Oggi parleremo di serci, come si dice a Roma, in italiano selci, nome derivato dalla selce, tipo di roccia dei mille usi, tanto da essere assunta al titolo più generale di pietra. Lo fa Petrarca nel suo canzoniere, precisamente nel centonomantesimo sonetto. Lo fanno i romani, quelli moderni, che si spingono a definire serci, i blocchetti impiegati per la pavimentazione stradale e i resti delle costruzioni romane, ridotte a ruderi. Per completenza dirò che sercio si usa anche per definire una persona di scarsa d'utilità intellettiva. Nel nostro caso, comunque, intendiamo i ruderi. A poche decine di metri della chiesa di Santa Bibiana, di cui abbiamo parlato nella scorsa passeggiata, sorge il cosiddetto Tempio di Minerva Medica, che deve il suo nome al ritrovamento nei pressi di una statua della Dea, almeno secondo Piro Ligorio, architetto del Cinquecento, che tuttavia si è rilevato non attendibile, sia sull'indicazione del ritrovamento, sia sul fatto che si trattasse di un tempio. Oggi si tende da parte degli archeologi a ritenere che fosse un'aula, diciamo di rappresentanza, forse con funzioni di sala da pranzo, costruita in epoca costantiniana, sicuramente facente parte di un complesso importante abitato da gente importante. E quindi sarebbero da scattare anche l'ipotesi di un ninfeo, come riportato spesso da alcuni studiosi. In effetti, le dimensioni 25 metri di diametro, l'altezza di 32 metri, ridottasi a 24 dopo il crollo della cupola avvenuta nel 1828, per ampiezza la fanno risultare la terza dopo quella del Pantheon e delle Terme di Caracalla. La sua specificità, oltre alla sagoma poligonale a dieci lati che salendo assume la forma circolare, è data dalla soluzione architettonica, che utilizza dei contrafforti che assorbono il carico statico della struttura, soluzione che sarà utilizzata in futuro dall'architettura romanica e gotica. Mentre dai resti interni si è potuto dedurre che la cupola presentava mosaici, così come il pavimento, mentre ai lati, lastre di marmo, abbellivano l'ambiente. Al suo interno furono ritrovati pezzi di statue utilizzate per sostenere le mura dell'aula e in seguito ricomposte, altre furono ritrovate nei pressi. Una scultura di una fanciulla seduta, che mette in crisi le mie scarse conoscenze sull'arte greco-romana, di una modernità da lasciare a bocca aperta, stupendamente anticlassica, di età adrianea, secondo secolo. Un Dioniso con la pantera che non c'è più, fanciullo che gioca con l'arco, satiro con pantera e due magistrati, nell'atto di lanciare la mappa che dà inizio alle corse nel circo. È curioso osservare come, a seguito dello spostamento della sete capitale dell'impero e il conseguente trasferimento armi e bagagli della classe intellettuale, la tecnica della cupola fu esportata a Bisanzio, in Oriente, dove fu perfezionata, mentre dalle nostre parti dovremo aspettare circa mille anni con il Brunelleschi per riappropriarci alla grande di questa tecnica. Il termine squilino non si sa bene da dove abbia origine. Potrebbe derivare da esculus, quercia, oppure da ex colere, il coltivare bene, o anche l'abitare fuori, in contrapposizione a inquilino, colui che abita dentro. In effetti l'esquilino, come si definì quell'area, rimase per secoli fuori dalle mura serviane, finché l'imperatore Lucio Domizio Aureliano, consapevole del pericolo costituito da possibili invasioni, si decise a rafforzare le difese di Roma, costruendo una nuova cinta muraria, tra il 270 e il 273 circa, e che da lui prende il nome di mura aureliane. Di conseguenza si aprirono o riutilizzarono delle porte di accesso, ma nel far questo i suoi ingegneri architetti sfruttarono anche le mura degli acquedotti o di altri edifici, come vedremo. Una di queste porte è la porta Tiburtina, nata in epoca Eustea nel IV a.C., come arco monumentale per consentire il passaggio dell'acquamarcia, della Tepula e della Iulia, come ricorda l'iscrizione in alto, che oltre ai titoli del figliaduttivo del divino Giulio Cesare, ci informa che Augusto rifece anche le condotte di tutti gli acquedotti. Altre iscrizioni fanno riferimento ai lavori di rifacimento ai tempi di Caracalla, nel secondo decennio del 200, e in basso di dito tra il 79 e l'81. L'arco intravertino, delimitato da due paraste con capitello tuscanico, cioè etrusco, presenta alla sommità una testa di bue, elemento detto bucranio, che ritroviamo pure nell'Arapacis, e per questo fu chiamato anche Porta Taurina, mentre in epoca cristiana assunse il nome di Porta San Lorenzo. Sul lato esterno, un'altra iscrizione, rammenta l'intervento dell'imperatore Onorio, intorno all'anno 400, a cui si deve l'apertura delle cinque finestre superiori e delle torri, quest'ultime ristrutturate nel 1500, come avvertono gli stemmi cardinalizi dei Carafa e dei Farnese. Costeggiando le esigenziose mura, va ricordato che in occasione dell'abbattimento di un tratto delle mura per questioni di viabilità, a fine 800, fu rinvenuto un muro inglobato nella cinta aureliana, probabilmente un ninfeo della prima età imperiale, che aveva conservato in parte la decorazione scultoria, tra cui vi mostriamo dei satiri in lotta con un serpentone non proprio pacifico, e di cui non si può tacere la resa stilistica, caratterizzata da un forte espressionismo, e la cura dell'anatomia che rimanda alla scuola di Pergamo in età ellenistica. La zona, d'altronde, è conosciuta come Orti Liciniani, dal nome della Gens Licinia, che ebbe tra i suoi membri illustri l'imperatore Galieno, che regnò dal 253 al 268, e che qui ne fece una residenza extraurbana, che continuò anche nei tempi successivi a svolgere la sua funzione, come attesta un ritrovamento di inizi novecento di un mosaico unico a Roma, con scene di caccia. Finita la pace, piombiamo in uno dei più caotici snodi, viari, piazza di Porta Maggiore, da dove si diramano due arterie importanti, la via Casidina, già via Labicana, e la via Prenestina. La porta, che deve il suo nome moderno fosse al fatto che era la strada che portava la chiesa di Santa Maria Maggiore, nasce originariamente come arco dell'acquedotto Claudio, inaugurato nel 52 dall'imperatore, di cui la conduttura porta il nome, come viene riportato in alto, mentre al centro e in basso sono registrati gli interventi di Vespasiano e Tito. Tuttavia, ad onor di cronaca, va detto che la sua costruzione iniziò nel 38 sotto Caligola. Qui convogliavano le acque di otto degli undici maggiori acquedotti romani. Inglobata nelle mura aureliane, fu in seguito praticamente coperta da ulteriori fortificazioni da parte di Onorio, fino all'abbattimento di queste, avvenuto nel 1838, che ha restituito il sepolcro del primo secolo di Marco Virgilio Eurisace e di sua moglie Atistia, e che di mestiere faceva il fornaio, come orgogliosamente sottolinea nell'iscrizione, come evidenzia nei fori che simulano i forni e nei bassorilievi in alto, in cui sono presenti tutte le attività legate al suo mestiere. Oltrepassando gli archi, troviamo questo edificio del 1934, della CEA, che in qualche modo richiama i fori del sepolcro, e che non presenta niente di particolare, se non il fatto che durante gli scavi per la sistemazione di cavi elettrici sono stati rinvenuti nel 1982 i resti di una domus romana, databile tra il II e il III secolo, con restauri effettuati agli inizi del IV secolo, appartenuta per un certo tempo ad Aufidia Cornelia Valentilla, aristocratica romana di cui si è trovato il nome inciso nelle condutture di piombo. La parte visibile è probabilmente un triclinio, una sala da pranzo, dove tra i pannelli si riconoscono una figura femminile nell'atto dell'invito, alcuni animali, e figure maschili e femminili, mentre il pavimento è costituito da tessere in bianco e nero a forma poligonale con disegni stilizzati. Detto questo, e lasciando agli appassionati del genere il Museo Storico dei Granatieri, eretto nel 1922, e della fanteria inaugurato nel 1959, vale la pena una visita al Museo degli Strumenti Musicali per ammirare la stupenda arpa Barberini, costruita nel primo secento e data in consegna al parmense Marco Marazzoli, compositore, cantore e virtuoso dell'arpa, strumento immortalato da una tela del suo conterraneo Giovanni Lanfranco, in cambio di lezioni di arpa alla figlia della Franco stesso. Tra i pezzi importanti della collezione c'è il precursore del pianoforte, il Fortepiano, inventato dal padovano Bartolomeo Cristofori, questo è datato 1722, e il modellino in terracotta della macchina di Polifemo e Galatea, che faceva parte della Galleria Armonica, ideata dall'Utalio del Seicento, Michele Todini, piemontese di Saluzzo, nella sua abitazione posta all'arco della ciambella, come precisa nella sua relazione, e che consisteva, per farla semplice, in una serie di strumenti musicali che potevano essere suonati insieme mediante l'utilizzo di una tastiera. Ci ha lavorato vent'anni, dilapidando il suo patrimonio. Se passate per New York, l'originale è al Metropolitan. L'area in cui ci troviamo era conosciuta come Ad Spem Veterem, presso la Speranza Vecchia, dove la Speranza era una dea a cui era stato dedicato un tempio, al ricordo della vittoria sull'Etrusca Veio, e vecchia perché durante la successiva Prima Guerra Punica ne era stato innalzato uno nuovo presso il Foro Olitorio. Qui, mecenate al tempo di Augusto, trasformò la zona in quartiere residenziale, e tra la fine del secondo e gli inizi del terzo, Prima Settimio Severo e poi il figlio Caracalla iniziarono la costruzione di una villa imperiale, poi completata da sesto Vario Avito Bassiano, passata alla storia come Elio Gabbalo, che vi risiedette nel breve periodo in cui regnò. Dalla sua famiglia la zona prese il nome di Orti Variani. Il ragazzo, che pare fosse un po' eccentrico in fatto di costumi, modificò, prima di essere assassinato da 19 anni, un circo messo su da Caracalla, più lungo del Circo Massimo, e costruì un anfiteatro, il primo tagliato via e il secondo inglobato dalle mura aureliane. Ciò che resta si può osservare, entrando attraverso la porta donata nel 2007 dall'artista greco Jannis Cunellis, maestro di quel movimento artistico chiamato Arte Povera, nell'Orto Monastico, progettato dall'architetto Paolo Pietro Egito Perone, che ha o ha avuto tra i suoi clienti gli Agnelli, la Cagan, Valentino, eccetera. Oggi il monastero non esiste più. L'abate, un ex stilista milanese, e i suoi confratelli trasferiti per via di un'attività sgradita al Vaticano e al Pape Merito Benedetto. Se vi sia stata un'esposizione troppo mediatica o qualche atteggiamento poco consono all'abito o un giro di quattrini fuori controllo non lo si saprà mai. Comunque è rimasto l'albergo accanto alla chiesa di Santa Croce in Gerusalemme. Torniamo a noi. Anzi, ai tempi di Costantino, inizi del IV secolo, il quale rivitalizzerà l'area lasciandola poi alla madre Elena per squagliarsela in Oriente dove stava fondando sull'antica Bisanzio la nuova Roma, poi Costantinopoli, oggi Istanbul. Il complesso probabilmente pensato come residenza imperiale tanto che assumerà il nome di palazzo Sessoriano sarà predisposto per quella funzione ma l'idea non decollerà in quanto Costantino nato a Nicomedia nell'odierna Turchia probabilmente non si sente attratto dalla vita e dai costumi romani e se ne ritorna dalle sue parti con il pretesto della difesa dei confini inaugurando l'allontanamento degli imperatori dalla capitale Roma che già aveva perso il ruolo guida per cui penso che potremo affermare che il palazzo Sessoriano sia stata l'ultima dimora destinata a un imperatore a Roma cosa combinerà la sua mamma lo vedremo nella prossima puntata quando parleremo della chiesa di Santa Croce in Gerusalemme un saluto da David Lago di contribution a il Grazie a tutti.